Due regioni, una del nord e una del sud, potrei passino dire due regioni governate da due coalizioni diverse e Magli se ci ha fatto incontrare, e ci ha fatto incontrare perché ognuno ha dato il proprio contenuto e abbiamo aperto una strada che sarà percorsa anche nei mesi futuri. Io ho chiesto al professor di stare accanto a noi perché vorremmo organizzare una iniziativa più o meno simile nella città di Geda, la città nel cui mare, nei cui fondali abbiamo tirato fuori questa meraviglia e sono davvero convinto che questo rapporto di collaborazione possa dominare, soprattutto anche il comune di Forlì ha un assessore siciliano e come vede la cultura non ha confini. È una iniziativa di grande valore culturale per la quale siamo davvero felici di aver potuto dare la nostra collaborazione e sono convinto che riceveremo attenzione anche per le cose che pensiamo di realizzare giù nella nostra isola e che ha aperto una nuova stagione di politica culturale e di turismo culturale, una terra in cui si muore di disoccupazione, noi vogliamo mettere a profitto, non inseguendo i miracoli, ma utilizzando quello che ci sono già disegnati.